...e spero che ognuno di voi, che è nonno, genitore, figlio, che ha i nipoti, che ha i bambini, che ha i ragazzi, si preoccupi di non essere indifferente rispetto all'idea del mondo che lasciamo così adatti. E' una grande responsabilità che abbiamo, anche se uno si trova nella fase dell'età della materialità. Non deve pensare che ha finito il suo percorso e che tanto io la mia pensione ce l'ho, tanto mi non interessa. E no, non è mai finito questo uno che ha il senso civico e io penso di ritrovare più persone che come me pensano che non si finisce mai di essere educatori e non si finisce mai di avere dentro il senso civico. La voglia di dare il proprio contributo è che questa è l'està di l'està migliore, in cui non devono prevalere i valori del grande fratello, oppure si debba respirare un'aria sporca, ma in tutti i sensi, intendo, ma si possa lasciare un mondo in cui c'è speranza. La speranza, soprattutto per i giovani, che arrivamo noi quando uscivamo dalla scuola, quando uscivamo dall'università, quando si affacciavamo al mondo del lavoro, con tanti idee e tanti progetti che purtroppo oggi ai giovani spesso viene negata, proprio perché non c'è una programmazione seria e forte rispetto anche ai giovani e alle donne, che vengono spesso, si trovano spesso in situazioni, guardate, uscendo da anche luoghi di lavoro, con espulsioni, perché le conversioni e tera e cera hanno una grande difficoltà, magari donne sui 50 anni, a riconvertire la loro professionalità e a trovare sbocchi professionali che le accompagnino alla previsione. Ci sono scopole drammatiche, la famiglia è una parte estremamente importante rispetto anche a quello che la provincia, pur non avendo competente di esse, si può fare. Una proposta che è inesca anche nel foro delle famiglie che noi abbiamo fatto nostra è quella dell'agenzia per la famiglia, ma non una struttura burocratica che complica la vita della gente. Un modo per mettere insieme un'esperienza straordinaria del volontariato, dei gruppi di famiglia che ci sono in tanti comuni, che non ci sono per troppo magari nella città di Treviso, ma nei nostri comuni, in molti, non in tutti, sono. Il problema degli spazi, dei luoghi di incontro, guardate che le famiglie si aggregano, se tu dai gli spazi, se crei le opportunità, se non dai gli spazi e vi dai il pagamento, la gente non si ritrova, e se non si ritrova non socializza, non sta insieme. Qualcuno ricordava l'esperienza e concludo delle panchine di Treviso, fatto di aver tolto le panchine si ha paura della gente che socializza, ma guardate che i giovani nella città di Treviso chiedono qualche spazio per ritrovarsi, per discutere, per stare insieme, anche in altri comuni. Vengono negati questi spazi, ma allora vuol dire che ci sono le amministrazioni che hanno paura, certi amministratori hanno paura delle persone che fanno insieme, che si organizzano, che discutono, che socializzano, che si conoscono. Io credo che noi abbiamo questo compito di favorire la socialità, la socializzazione, lo stare insieme, ma soprattutto un amministratore, sia il sindaco che sia un consigliere provinciale, che sia un sindaco, non deve mai mettere in campo iniziative che facciano paura ai cittadini, ma deve rasserenare le persone, mettere in campo politiche che rasserenino le famiglie, perché se no vuol dire che ha fallito il suo conto, il suo volo di amministratore. Io credo che noi abbiamo un'occasione importante per fare un servizio vero ai veri e un servizio vero ai veri. Lo sapete perché? Perché oggi il vero è trattato male. Viene trattato da Roma dove il cliente è sicuro. Sapete cosa succede? Il cliente è sicuro. Se il cliente è sicuro che comunque non cambia, viene maltrattato. Voi provate a metterli al posto della sua presenza del consiglio, non c'è il tuo nome, non vuole fare pubblicità. Se avete 100 milioni di euro da distribuire, non gli dà il vento, ma gli dà le lezioni che cambiano. Allora, io dico ai miei compagni, dico, non cambiate vostro, se non vuole fare pubblicità, continuate a votare con lui. Ma più o meno, quando fanno i soldati, almeno si stai votando da la nostra parte. Allora, quello che io chiedo nell'intervento, io sto parlando, esempio, a voi di Cazzo Franco, voi sapete cosa ci chiede per stanno a Cazzo Franco? Il comune di Cazzo Franco, ora, mediamente, meno di 20 euro per abitanti in trasferimento. Cioè, i trasferimenti, dall'anno scorso, da 20 euro in meno per abitanti. E' un'altra parte, approvati anche dal vostro cittadino. Non so se mi chiedo. Allora, rispetto a questo, o ci svegliamo, e quindi ci svegliamo, e svegliamo i nostri cittadini, e nei partenzi dei nostri cittadini, dove dobbiamo farci capire che non mi interessa farci fare il preventivo anche da noi. Cosa fa il cliente sicuro? Il cliente sicuro dice, io vengo ancora da te, non posso fare il preventivo all'altra parte. Ebbene, facendo e votando le amministrative, votando per Sebastiano e votando per la Floriana, facciamo un servizio al Venneto e facciamo un servizio ai Trinidadi, perché ci stanno maltrattando. E lo posso garantire. Perché nel momento stesso, che sono stati tolti 20 euro ai cittadini di Cazzo Franco per abitanti, ne sono stati dati più di 200 ai cittadini di Roma, con lo stesso voto. E nel frattempo ci vedono buoni manifesti con Roma e la Roma. Delle due luna non possono più prendere il Vino. E in questo senso, quindi, votando la Floriana e votando Sebastiano, facciamo un servizio al nostro paese e al nostro territorio. Io voglio dare questo segnale. Se noi ci rendiamo conto che il Partito Democratico non è un partito lideristico, come tutti gli altri, tutti gli altri partiti sono lideristici, hanno un leader e si paga fuori e poi dopo. Da Sè, con Vendola, a Di Pietro, a Cadini, a Bossi, a Pini, a Berlusconi. Noi siamo il Partito Democratico. Dove facciamo un gioco diverso. L'importante è che noi facciamo un gioco di squadra. Nel lungo periodo i risultati arrivano. Un uomo da tutti i casi. Ma è un peccato che siamo quasi verso la fine, cioè dentro a tre settimane. Perché è la terza volta che ci troviamo qui. C'è un bel clima. Si sta bene tutti insieme. Si mangia anche bene. E quindi troppo poco che dopo le elezioni torniamo qui a festeggiare il risultato della Floriana. Guardate, domenica prossima tutti gli occhi saranno puntati su Milano e sulle altre grandi città. Però io consiglierei ai giornalisti di Rango di almeno un orecchio meglio a questo previso. Perché l'aria del cambiamento può partire da qui. L'aria del cambiamento è fatta da venticelli leggeri che si cominciano a spirare in primavera. E perché può essere questo? Perché non solo tre settimane, ma chi pensa oggi di stravincere potrebbe avere qualche sorpresa. Ma non solo. Chi oggi è al comando del Paese potrebbe essere evidente qui che non è lui che comanda, ma che comanda la Lega. E qui anche il risultato del partito di Berlusconi qui potrebbe essere un segnale. E se in quest'ottina c'è un percorso nostro di crescita, beh, Marco, allora noi facciamo un servizio non solo a Previso e al Veneto, ma lo facciamo anche nel nostro Paese. Cioè, abbiamo l'idea che non solo il Veneto è contendibile, cioè che lo possiamo prendere, ma anche l'Italia è contendibile e stiamo incamminandoci verso una nuova stagione politica che è quella della quale si sente bisogno. Buonasera a tutti. Difficile a chiudere dopo tanto tanta funzione che avete sentito, ma non fa più il contributo. Cominciò con una cosa che non posso dire. Prima qualcuno dice il PGL, anche adesso non vedremo le parete. Il PGL è stato che sta facendo una cosa molto difficile per uscire il PGL e che probabilmente servizierà un ulteriore riservamento o per favore della Lega. Però, in questa sua battaglia non c'è nulla della passione che avete visto questa sera in Loria. Non c'è nulla di questo. C'è il tentativo di essere attaccati a un po' di sezione di potere. Credo che sia percepito che c'è una certa stanchezza di una sezione del potere come diceva prima Floriana da Don Rodrigo. Avete presente Don Rodrigo i bravi nei promessi spazi? Quali giornali sono così convinti di comandare loro che volte si dimenticano anche di cogliere fare un po' di dare un po' di copertura alla loro avvocata di usciare il potere. e questa la luce a tanti cittadini. Abbiamo un straordinario lavoro culturale che io da fare prima forse politica. Prima la cooperazione e non ve la chiedo la collaborazione. Grazie a te che mi sembra lui ma non potremo definire la nostra comunità. Secondo sentite lui con vista la co-passione soffrire con l'altro aiutarsi tra persone soprattutto e per i solidari con tutti i deboli. Terzo la parte avete costruito in 60 anni una parte straordinaria dove non c'era come state tante guerre come il Contenetolo 3. Queste sono le tre cose su cui voi dovete puntare per affrontare il mare la collaborazione Grazie a tutti.